L'idea è fondamentalmente stata determinata dal fatto che noi frequentiamo abitualmente la letteratura siciliana, così il gatto pardo è il riferimento volente o nolente di tutta la letteratura anche successiva dei grandi autori siciliani. Abbiamo deciso quindi già un po' di tempo fa di fare un percorso attraverso il romanzo che corrispondesse, un po' come faceva Ronconi, a quelle che sono le stazioni dei vari momenti salienti del romanzo. Ovviamente ne diamo soltanto una traccia, diamo soltanto alcuni dei tanti personaggi che lo popolano ma il contenitore è nello stesso tempo lo spazio scenografico ideale perché cerchiamo sempre contenitori di alta rappresentanza, come dire, grande bellezza, storici, contenitori storici e che quindi riverberano quelle che sono le bellezze anche del nostro immaginario che suscitano sia le parole di Giuseppe Tomasi di Lampedusa sia quello che è stato il riferimento poi del nostro immaginario, perlomeno dalla nostra generazione che poi è il film di Lucchino Visconti. Quindi contenitori di pregio che valorizzano le parole del romanzo e nello stesso tempo sono valorizzati da questo bellissimo racconto. Data, ora e come partecipare per ricordarlo al pubblico? Data 17, sabato 17, ore sono tre turni, 16.30, 17.30 e poi la sera alle 21.00. Il luogo è Palazzo Spinola, gallerie di Palazzo Spinola in pellicceria, luogo peraltro meraviglioso col biglietto di ingresso si può sia visitare successivamente dopo l'itinerario con Romanzo lo stesso museo ma approfittare anche del fatto che con lo stesso biglietto di ingresso a Palazzo Spinola si potrà anche andare a vedere nel giorno successivo il Palazzo Reale. Grazie a tutti.